Nella metà di maggio durante Nebbiolo I saremo molto orgogliosi di aprire per la prima volta le nostre porte agli operatori di questa zona, gli operatori di Langa, sommelier, ristoratori e giornalisti della zona di Langa. Vi aspettiamo anche per voi farvi assaggiare dei baroli unici, dei baroli antichi e non solo avere la possibilità di emozionare gli stranieri che vengono qua, ma anche di far rendere conto sempre di più alle persone che vivono in questa zona quanto è importante e quanto sono ottimi i nostri prodotti. Arrivederci a tutti.